Si conclude la settima settimana biblica diocesana organizzata dalla diocesi di Andrea. Sono stati affrontati vari temi importantissimi, lavoro e famiglia in primis. Tracciamo un bilancio. È una settimana molto ma molto interessante durante la quale ci siamo lasciati illuminare dalla parola di Dio. Che cosa ci ha detto la parola di Dio? La parola di Dio ci ha detto che il lavoro è fatica, è laboriosità ma è anche felicità. Ci ha detto che per vivere bene la ferialità dobbiamo vivere bene il giorno del Signore, incontrare Cristo, incontrare i fratelli. Ci ha detto che nella famiglia impariamo davvero a vivere relazioni autentiche. La famiglia è lo spazio, il luogo, la scuola della comunione. Laddove impariamo a mettere al primo posto i nostri fratelli. Laddove cioè scopriamo che ci realizziamo nella misura in cui ci doniamo ai nostri fratelli. Una settimana che ha visto davvero una partecipazione impressionante. Ogni sera abbiamo avuto oltre 500 persone. a testimonianza della sete che c'è della parola di Dio, di parole vere, di parole autentiche. Abbiamo acceso quattro luci. L'auspicio, l'augurio è che queste luci possano davvero rimanere accese nel cuore di tutti coloro che hanno partecipato per illuminare la propria vita. Ecco, solo così davvero questa settimana biblica può avere un seguito. E' possibile dare un seguito a queste quattro serate molto belle, molto partecipate, vissute nella piena comunione con Dio e con i fratelli.